Ragazzi, allora oggi introduciamo l'abblattivo assoluto. Prof, ma se uno, cinque e mezzo, è cinque o sei al debito a fine anno? Prof, ma con tre materie sotto si viene bocciati? Prof, quante assenze si possono fare entro fine anno per non venire bocciati? Prof, ma se io ho una materia sotto con tre, due con quattro, venticinque ore di assenza, sette note e a ginnastica ho tirato una palla contro la bidella, posso essere bocciato? Allora se c'è l'influenza astrale, se domani piove, ma cosa ne so, cosa ne so io? Ti boccio io se continui a disturbarmi, basta!